amici di video game generation siamo a milano per un evento nintendo dedicato alle 3 2019 oggi vedremo insieme a brigius e nello di alex.it le novità presentate alle 3 2019 non vediamo l'ora di vedere che cosa ci mostreranno durante questo evento ospiti del video games party qua a milano direi che basta parlare e andiamo a vedere a Che dire, giornata incredibile qui in Nintendo, abbiamo visto e provato anche alcuni titoli in anteprima che abbiamo potuto vedere e ammirare durante il Direct dell'E3 2019, io personalmente ho amato, alla follia, Link Awakening, il nuovo Zelda tuccioso, se può dire, che è un remake della versione che era uscita per Game Boy, che era proprio un'esclusiva. Rikius, tu cosa hai visto che ti ha, diciamo, ispirato maggiormente? Mi ha colpito veramente tanto, tanto, tanto Luigi Smashing 3. Incredibile, provarlo è stato veramente un'emozione. È figo, molto figo e molto divertente, io non avevo giocato il primo per GameCube perché non avevo il GameCube, è stato bello, è stato divertente provarlo e sarà un gioco che sicuramente entrerà a far parte dei miei giochi giocati. Assolutamente. Altra perla, ovviamente, Pokémon Spada e Pokémon Scudo. che uscirà a breve, quindi abbiamo potuto testare probabilmente la stessa demo che hanno fatto giocare durante l'E3 a Los Angeles, abbiamo potuto vedere appunto soltanto la parte dedicata alla battaglia e con questo problem solving, diciamo, questo puzzle game per superare... Un mini labirinto. Un mini labirinto prima del vero scontro, diciamo, nell'arena. Molto bello, molto semplice, diciamo, semplice come... Pokémon Let's Go. Come Let's Go, sì, molto immediato. Vedremo poi nella versione completa sicuramente ci saranno degli elementi volti più al competitivo. Questo sicuramente. A me è piaciuto moltissimo anche il porting che hanno fatto da Xbox di Super Lucky Tales. Esatto. Grafica bellissima. Fantastico, l'hanno chiamato New Super Lucky Tales perché non è un porting paro paro. Hanno corretto diverse cose, per esempio su Xbox One purtroppo c'era qualche piccolo problemino sulle telecamere, l'hanno risolto in pieno su Switch, grafica molto molto bella, molto dettagliata, gira a 30fps granitici, non ho mai avuto riscontro di rallentamenti, anche questa demo, molto bello. Gioco da giocare assolutamente importabile. Secondo me su Switch avrà una seconda vita perché era già molto bello ma qui potrebbe avere maggiore rispetto. Non è stato abbastanza apprezzato su One. Non è stato abbastanza apprezzato su One. da fare assolutamente con gli amici perché Caciarone si può giocare in quattro, Max qual è? È Marvel Alliance 3 perché diciamo Caciarone, ok c'è una storia e tutto, è principalmente un picchiaduro, un spavimento con grafica isometrica, ricalca ovviamente gli altri giochi, gli altri capitoli precedenti. può usare un sacco di personaggi Marvel, dettagliatissimo a livello grafico, mi ha stupito molto, molto bello e molto immediato, sicuramente da giocare in quattro appassionati Marvel e scambiarsi magari anche tra i vari supereroi, veramente bello. Altri titoli ce ne sono stati? Hollow Knight. Hollow Knight, il seguito di Hollow Knight è molto più dinamico, molto più leve da tirare, sicuramente un titolo per i vari appassionati non semplice, ma veramente ben fatto. Altro titolo da non sfruttare perché come party game soprattutto Mario e Sonic alle Olimpiadi, ai giochi olimpici, abbiamo provato appunto a tirare con l'arco ma c'erano altri minigiochi. Sì, io ho scelto quello perché mi aveva colpito la meccanica del tirare con l'arco e qui sfrutterà al massimo quelli che sono i giochi. Bellissimo, bellissimo. Ci sono divertiti e ti ho battuto. Mi hai battuto, ma è per poco dai, non utile che fai così perché sicuramente avremo altre occasioni per sfidarci, ma non è finita qui perché c'era spazio dedicato anche agli indie per esempio, Super Kali Magico, Super Kali Magico Zero, Stanger Team 3, c'era anche Cadence of Hyrule che è il mesciacquoni diciamo tra Crypt of the Necro Dancer insieme a Zenda, bellissimo ragazzi, c'era anche Cap Head che secondo me dà davvero il meglio di se stesso in modalità portatile. Notevole, un gioco ben fatto già alla prima uscita anche adesso, merita veramente di essere giocato. che dire, grazie Nintendo per averci invitato come ogni anno questo evento di grande anteprima di nuovi titoli. E' sempre bello venire qua. E' sempre bello, però attenzione perché c'è stata una sorpresa che ovviamente non potevamo filmare, c'è stata una bellissima presentazione di Astral Chain e ragazzi, ve lo dico, è un gioco incredibile perché puoi fare veramente un sacco di cose, è veramente pazzesco. Forse non per tutti, non per tutti, ma io darei comunque una possibilità anche ai neofiti diciamo del genere perché Platinum Games hanno creato veramente un'esclusiva incredibile. Ragazzi, da Brigius, Max, abbiamo anche Nello e Alex direttamente da Alex.it, tutti quanti assieme, vi salutiamo, iscrivetevi al nostro canale, mi raccomando, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, bye bye.